Ti ho mandato, ti dovrebbe essere già arrivato il link Ok, sì sì Stai avviando GTA? Stai avviando GTA Tony? Sì sì, aspetta Sto tornando la tua live un attimo Ah ok ok Intanto aspetto che si colleghi qualcuno Appartamento Vuoi un canale pulito da un site? E soprattutto di vita Sì, perché? Io ho sentito quasi sempre questo nella descrizione Stanno due collegati, sei tu e chi altro? Che cosa? Cosa? Facciamo una bella rapina in banca Io vorrei fare più attività tipo rip-lop, missioni Non facciamo un fucile Eh no, sì sì, un fucile Ma rapina in banca Che forse ho fatto già tutte le preparazioni E manca solo fare il colpo Perché io a fare quel tipo di meccanismi E poi a trapanare ci riesco E tu devi fare l'autista va bene Perché è un po' difficile Infatti la prima volta che ho fatto è Metto un attimo l'assicurazione su questa macchina Ok Voglio la macchina volante che hanno messo Oggi è qua Eh sì La macchina volante me l'hanno fatta provare in anticipo E' una figata Perché quando tu premi No ma poi quando tu premi X Inizia a volare all'infinito E' meglio è la moto volante Inizia a volare all'infinito Tipo un aereo Ma io forse mi prenderò un bunze Perché sentite la E' la vocalisse E' una figata assurda C'è tipo forse Tipo una modalità zombie Ah La prendo io E' una figata assurda La guando è solo il mio GTA La guando Ma sai che io uso un glitch Per avere soldi quasi infiniti Cioè un glitch Tra parenti Tra virgolette glitch Perché è una cosa molto legale Fare missioni che ti danno 14.000 E che durano pochissimo Messa difficile Ma non te l'ho detto Ma se tu mi fai vincere A slasher 8 round A slasher da 14.000 A meno di 37.000 Lo facciamo? Sì però Però Dobbiamo essere sei Dobbiamo essere sei E poi dobbiamo stare noi In due In tre O forse pure due In due In due Dobbiamo stare Siamo solo noi due Perché Si arriva un livello Tipo quanto Livello novecento Ma sono moddati Cioè un mio amico Che ha delle attività moddate Che ti danno 154 miliardi E vabbè Eh me l'ha fatta provare una volta Però a me mi ha dato Soltanto 10.000 Perciò non è vero Che schifo Cioè se fai Ti puoi scaricare una mia attività Quale? Un'attività che ho pubblicato Sul social club No E dai Ti dà un bordello di soldi Se metti 15 giri Ti dà 30.000 Così va? Allora Ehm Sei iscritto al social club Quale? Il social club Che GTA No Comunque se ti iscrivi Ti danno anche la macchina Che ho io Che è velocissima Ed è la Se non mi sbaglio Sesta macchina Più veloce Al gioco Ehm Ah Gratis LGLH8 Ce l'ho Grazie Ce l'ho anche io Ehm Quanto hai pagato? Gratis Ehm Allora sei iscritto al social club No però Lo so scritto al social club Di un altro No del tuo Lo so Lo so Ma lo vuoi comunque scaricare Vabbè Però una cosa Se la vieni vale zero Vuoi venire a fare undice? Evasione? No No Non la vieni in banca Ma vuoi fare solo? Ehm Una robina in banca Fra un attimo Fra un attimo Vendo un veicolo Che mi da 9000 Un secondo solo Ma Ti invito Nella mia sessione Ti devi invita No perché da ora non mi fa entrare Ma è una sessione solo a invito Allora mi fa entrare Fatto E comunque lì non si può sapere Ehm Così Una cosa Della Ehm Ah questa macchina Ehm Ma io mi vendo una bella gippona Non mi fa entrare E poi lì non si possono neanche avviare colpi in banca Vai Perché Perché non si possono avviare colpi in banca Ehm L'hanno deciso Guarda questa Ah ecco ora possiamo fare colpi in banca Ma tu sei un cielo Tu sei? Un cielo Che vuol dire? Sono 3000 Ehm Ehm No Io sono Sono un cielo Un cielo Ma se cazzo già un po' Con i piccoli di canale 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 Ma se tipo Tipo facciamo Gli abbiniamo i negozietti Tipo queste cose qua No Non mi piace Fa un colpo grosso Se facciamo attività Che ti danno 15.000 Non lo so Lester Non Lester Vediamo se miglio Fa un'attività Che fica la Un elemento si sblocca Quando Lester Ha Ha Un atto De Il colpo Dell'Apocalisse Disponente Per essere Dicci Scusate Perché ti devi giocare A un colpo Colpo Alla fleca Colpa Alla fleca Sì Mettiamo Il colpo Alla fleca Ok Porta un attimo La macchina Nel Peragio Mio Ma io vorrei fare L'Apocalisse C'era Proprio assurda Ma il colpo All'Apocalisse Quanto ti do Ti do Qualche milione Cosa Qualche milione Cavolo Forse Se no miliardi O tipo 800 mila Sicuramente Però tanto E 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 Nuve giornamenti Il Gita Poi No Ho confermato Che E Sarebbe Difficilissimo Ma che Ti costa Tanti Cioè E Ti dà Un Muzione Ah Però Sei Difficilissimo No Guarda Lo sai Che è Più difficile Della Populazione D'invasione Pacific Standard E Se Facciamo Rip Lost Rip Dopo 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 Quando Che ho fatto Il colpo Va bene Ok Mi inviti Aspetta Per Inizio Però Devo fare Pure Le preparazioni Non fai niente No Allora No Preparazioni Mi scocciano Perché sono Che difficile Ma Adesso Sono solo Due Dai Ah Sono solo Due Ok Ok Se facciamo Sì Immortale Sì Immortale Non Ci sono Tutte le Gare Mi spazio Ma non è Ma non è Una gara È una gara Assunta Allora No Che cosa Ma te lo dico Sono soltanto Allora Attività Avviettività Create Rockstar Modalità Competizione Se non mi sbaglio Condannati Rai d'Alba Ecco Scea mortale È una Modalità Competizione Non è che Mi facciamo Tanto Scea mortale La competizione No Però È una Figata Perché C'è una Specie Di moto Volante Si è Raffreddatissimo E Tu Con quella Moto Volante C'è Una Tu Con quella Specie Di moto Entro Con quella Specie Di moto Volante Devi 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 Creare Una scia Perché Crea Una scia E Non ci deve Cioè Ci deve Passare Sopra Il nemico Ah Cagito Scema L'ho fatta Sì Dai Facciamo La carina Però Dopo Il Cos'è Un banco La Ok Attività La bio Io No È un Degutizio È un Amico È un Amico Carissimo È un Amico Carissimo Carissimo No No Ma sai Una cosa C'è Una missione Che è Esplosione 2 Che ti Dà 35.000 Se non Mi Sbaglio È un Esplosione Però Era un Amico Caro Molto Allora Ci stai A fare Scema Mortale Oppure Una Sì 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 C'era Ma Ma Ti invito Ti invito No L'invitavo io Tu non entri E ci devo fare Ah ok Che stavi dicendo Porche mozzo Sei che è un mio amico No No C'è È un Neoclano Ci sono tutti Mottati Cercano di Mottare Poi Gli altri E infatti Sapevo che Porche mozzo Mottato È livello 100 e passa 500 o qualcosa Mottato No no non è 180 Io sono pure Amico Oh guarda che rango sono Un applauso Adesso Gli ero Concessante Sono quasi Quanto Marluchi Eh È Vero Ti chiedi Come ho fatto No ma Marluchi È livello 49 Lo sai 49 E comunque Sai come faccio Basta Non mi sono Per niente Di quello Quando faccio Comunque Io In una Gara normale Mi faccio Esattamente 500 Mila No 50 Mila RP Però era meglio Con i capelli Blu Secondo me No rossi Dai Ma questo C'è una fleca Mi legge quello che sta dicendo Noi Ah se ci prendono di mira Annulliamo la cosa Ma quando parla veloce Non si dice niente Infatti Magari Magari In GTA Si potesse Mettere Italiano Noi Non faremo Assolutamente Niente E vabbè Che cacchio Sto leggendo Lui Lui Già Ma io ho una macchina Che Ma sai perché Io sono abituato A guidare così Perché 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 io ho una macchina velocissima Stavo per dire E con quale mi buco benissimo nel traffico Io ho l'unico che posso usare di più Ho l'aereo No bravo Pure io con l'aereo Pura moto La moto La moto per me è perfetta Quella è di giganteschi Eh però Quelli E sono molto Di figli E posso pure Atterrare E decollare Eh pure io E tu sei parcheggiato Una macchina Una volta Sì So parcheggiato Una macchina Perché non lo so Ho scommato Come un pazzo Ti sei parcheggiato In scommata Sì Amicamente Lo so parcheggiato Olè Meglio Meglio Così tipo Eh così Eh così Era perfettissimo Era proprio giusto giusto Questo come ho fatto però Eh Olè C'è beccato C'è beccato Non vedo più il cosa giallo Non lo vedo verde Perché What the fuck Nella camera Chi è? Sto guardando Piccola Il personale Non corretto Tanto Il mancino Di sicurezza E adesso Stanno Tenendo Il personale Tutti su Non c'è La banca Si trova L'uomo Sì Ma è vabbè Dove dobbiamo andare Troppo veloce Ok ok Ma poi pensa Se ci doveva Se l'estera Andava pure Ma perché abbiamo dovuto Fare avanti e indietro Mi devi spiegare Questa cosa E ora dobbiamo Prendere il veicolo Ah Una parola Ecco Devo fare il meccanismo Tu Tu Sparo Io Guido Ok Ci siamo Vissi d'accordo Prima di iniziare La live Tu sei autista E sono Troppinatore Va bene Ok Ci siamo Vissi d'accordo Prima di iniziare La live Oh C'è il davanti Oh fuck Guardiamo cosa faccio Io sono Davo a sinistra Felicoli Ah Non mi è venuto a fare E sono sbattuto Alleluia Dove il secondo meccanismo Quale? Il secondo Eh Non l'abbiamo detto Il secondo Ma perché A meno sta battuta Che ha detto Non è che Fai ridere Lo sai Sì Infatti Ecco Ho fatto tutto il circuito Ma che stai facendo? Ho fatto il circuito Per Accraire Accraire L'accesso Perché io faccio Alessere cose Anche a me Ma sai che io E vado Con strada E dite Non vado qui C'è E' un po' Fastidio Questa cosa E' vero Eh molto Olè Dai un chilometro Ma sai Nella guida Io quanto ho? Tutto la barra Campione Eh Campione Sarebbe Perché tu Quanto ce l'hai? No Io basta Io il volo Ce l'ho a gallina Resistenza Resistenza Pure io C'ero al massimo Pure io ce l'ho al massimo Resistenza Massimo Forza Pure a me Ho due tacche Furtività Massimo Volo Eh Neanche una tacca Guida Campione Volo io ho gallina Anche io ho guida campione E poi apnea Tre tacche Tre Io Io l'apnea ce ne ho quattro tacche Però tu ce l'hai Come dice Forza Quanti hai forza? Eh Se non mi sbaglio Tutte Forza Impossibile Perché? Io faccio molto pugni Su GTA Quindi Anche io faccio pugni La gente che trova Le do pugni Che devo dire? Che Che What? Non lo pare Ah sali Devo salire Guido io Guida Non sono caduto Ma sai che cosi Ci fanno fallire La preparazione Giusto? No no Solo se Perché la squadra Ci abbandona No no Non ho visto Io non vedo Tutto lo schermo Ecco la munition Potendo Non è la munition Ok Non si può neanche scendere Va beh vai 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 non si può neanche scendere la macchina Davvero? Eh Oh mi sta Raga ma scrivete un po' con chat Giusto? Ancora Zero messaggi Eh Almeno qualcuno vede Eh Dice zero Ma perché Zero C'hanno il canale Per scrivere Secondo me Sì Ma no Quelli sono le persone che vedono Non ho cose Non ho cose Ma poi alcune persone C'hanno una cosa Che non ti permette Di farti vedere Ho saputo Eh Tu l'hai messa quella cosa No Alcune persone In un'impostazione Dell'account Se non mi sbaglio Hanno messo Hanno messo Che Non si fanno vedere Cioè Tipo È presente Visualizzazioni Non li conta Come visualizzazioni Se lui guarda il video E tu l'hai messa Quella Con la funzione No Quante persone Ci ricca Almeno Sono apparte Nel video Eh Due Due Nel live che ho fatto A me Sono Tipo 15 O Già 7 Ma se vai a vedere L'ultima live che ho fatto Di GTA Tira Tira mano bestemmie E perché Boh Mi odiano Sono E tu che dicevi Non voglio E tu dicevi che Non voglio Niente Voglio un canale pulito Secondo me Era meglio Che non si vedi Che cosa Sfortuna Lo sai Ma non l'avevo Ancora scritta Quella cosa Però Invece di tirare Bestemmie Almeno se le consegno Infatti Ma sta missione Era una cavolata Te l'avevo detto Poi dobbiamo rubare La macchina E facciamo il colpo Che è facilissimo Oh mio Dio Non rompermi la casa È la tua Questa è una casa È una villa Sì la mia casa Davvero Però questa è una villa Non è una casa Perché se vedi Se vedi Stai tipo una montagna Ma dove deve andare Io non capisco Nel caraggio Dentro Dentro il caraggio E dove so In dietro Però ci deve andare Ah ecco Trofeo guadagnato Che c'è il suo trofeo guadagnato Preparazione Non me l'ha dato Platino Vabbè Solo perché è guidato Perciò Dovremmo vedere Poi La sparatoria 59 Di meno 59 È un livello quasi 32 Non me ne spiega niente Di questa roba Dai Avvira la missione Punto e basta Stai entrando Ok E gioca Ma questo qua che cos'è Strada devi andare tu Dio Sì le maschera Questa cosa Già l'ho vista Oh mio Dio Oh mio Dio Così troppo colorato Troppo colorato Io mi voglio fare tutto nero Ok Così Nero 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 È un calzino È un calzino Infatti messo in testa Forse Guido io No 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 Non tra No Vieni vieni La mia è velocissima Anche a me Questa qua è gratis No Costa Quanto l'hai pagata Non ricordo lo sai Ma quante vite abbiamo Non lo posso vedere io Uno Però Non dobbiamo neanche modire Non dobbiamo neanche modire una volta E dobbiamo fare E dobbiamo fare la prevenzione pure presto Posso guardarla io la macchina Ci dare un bonus No Allora muoviti L'ultima volta che ho fatto guidare una macchina Un mio amico l'ha fatto esplodere Che c'entra No Perché tu hai la macchina Stai intendendo No no vabbè Muoviamoci più che possiamo Che poi io su GTA non ho capito perché è il contrario Più tempo ci metti più soldi ti do Non ho mai capito questa cosa Non esco questa cosa Ma perché allora per fare una gara Ci ho messo 5 minuti e mi ha dato 7 mila Il giorno dopo poi ho fatto un'altra gara Ci ho messo 10 minuti e indovina quanto mi ha dato 17 mila Metti la maschera Metti la maschera Metti la maschera Cosa si fa? Freccetta a destra Motherfuckers Surprise Surprise Motherfuckers Come si fa? No so per morire E mettiti al riparo Go 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 La mano Morto Come sapevo Ma mangiati i snack Eh non ce li ho Come si fa poi? E comprali Non posso mica sciopare la mia vita No Ma costa un euro Di GTA Su GTA e snack costano un euro Un dollaro Cosa? E perché? Ma io non sono poco morto E mi sto facendo un pazzo A me non ho spesso 3 mila proietti all'inizio Te ho fatto 2 guild Ah beh Ti compro io Stai attento Guido io però stavolta Mi raccomando No ma guido io No No Intanto io mi metto Quello in marco Vieni 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 da tu dai No che cazzo Dai vieni Perché non mi fa Ah ecco Ti aiuto eh A uccidere la gente Eh ma dove devo andare Dall'altra parte È deficiente Di qua? Perché proprio lì dovevi andare? Eh Aspetta Olè Che è però? Capperini molto fritti Capperini molto fritti Perché non li posso chiamare capperini molto fritti? Si scipi Aiuto Ma non è blindata? No è blindata E perché allora ci stanno facendo danno? Eh comunque cerca di donno Non dannezzarla lo sai? Perché? Ah Se no ci da Si riduce Si riduce la fada Ah Giusto Siamo fottosi Ma tu Io ti dico Non sbattere Perché se no ci giù Con la 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 Fada che tu sbatti Adesso faccio Piero pelote della luce Mastro lindo No L'auto di lindo Eh L'auto di lindo L'auto di rame Meno male che è blindata Se non ci eravamo morti e sepolti Infatti Sepolti Come Michael Se no mi ha fatto finta Che vuol dire Non è La morte brutta di Trevor E poi Brad Mamma mia E' sopravvissuto una rapina Cioè Non è che poteva sopravvivere Almeno a quattro A quattro Tipo A quattro Quattro missioni Almeno Perché c'è Invece è durata solo una missione E' morto pure male Dove? Oh Di qua What? Perché what? Perché What? Già fatta Già fatta Già Ma perché sta piovendo Ma perché sta piovendo? E' petrolio Fammi capire E' petrolio quello E' quello che ti sto dicendo Oro Platino Perché platino Ma che serve Europatino? A te quanti punti vi ha dato? 1749 2009 2009 2009 L'anno di nascita di un mio amico Al cuorello forse Ma Ah no 2007 E' la 2007 Quando sono andato io Sì Perché? Perché è poi uscito Non lo so Basta ma quanto Quanto al mento Gessimo Oddio ci pure batte Dai Bate su Vado Che voglio Eh ma cosa ci manca più? Un colpo Un colpo E' solo un colpo Ci manca Eh aspetta un attimo Vado un attimo Vado un attimo A postare la mia auto Bella Bella Tanto ci metto poco Olì Sgommata Ma tu stai già giocando? No Non sto Nel colpo Alla fleca Eh quindi Tu stai nel colpo Alla fleca Stai mettendo la macchina Lì? Sì Perché a me si sta ancora Vado a ritardo Ah davvero? Sì Ah ecco Hai messo la tua macchina? Eh no Manca un chilometro Che Non più Un chilometro Manca un chilometro Che non è più un chilometro Forse perché hai rubato Una macchina Tipo Ah no Perché ho ucciso qualcuno Ma sai io Quante se le totali Hai avuto Di polizia Quante? Cinque Trecento E passa Preparazione Ma non ha aggiunto nessuno Wow Che Non hanno aggiunto Un cacchio Una revolver pesante Hanno aggiunto Wow Cosa molto nuova Ma hanno aggiunto un cacchio C'è uno spettatore Sì Aspettatore Di che cosa? Del live Quanto vorrei avere la mitraglia Ah Che sogno Oh se mi metti Al colpo Alla fleca Aspetta che Il video Mi hanno mandato un messaggio Io lo accetto Quale? No Perché Devo mettere i soldi in banca Aspetta che Molestere Molestere Dammi le robe Dammi le attività Dammi E' D'anziata Colpa alla morte Non posso No Non posso Siedere Non mi sapete ancora Aspetta Fammi Andare a casa mia Per favore Perché Ah Eccomelo Ah Finalmente Un messaggio Nella dai Che bella cosa Cosa hanno scritto? Un pollice in su Allora Quello sei tu? No Non c'è più L'ospettatore E' No Cua 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 Anzi Oh comunque Non lo direi più Che mi danno il copyright Perché mi danno il copyright? Perché è una cosa copiata forse? Cosa copiata? Scusa Eh Il suono Ah Oh shit Oh shit Ma sai quanti veicoli ho rubato? Io 947 Tu? Solo 1799 Io non è che rubo le macchine Anzi Eh ma io le vendo le macchine E' un altro fatto Ah è vero Io le vendo proprio Ma sai quanto ti da una macchina? Ti da un bordello 9000 1000 8000 Io vendo macchine che ti danno tantissimo Ma sai quello? 9000 Non è proprio chissà quanto Però sempre è qualcosa Che è quello? Mi ha invitato? E' un luogo Ho sonno Eh non mi è Non mi è Ah ecco Colpa alla fleca To 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 Ho speso 400 euro Perché stavo con la polizia 400 è un pochissimo Colpa alla fleca Metti il 100% a me Il 100%? A me No Tutti i soldi vanno a me E dai No No E dai no Per YouTube Per YouTube? No Si Per la patria Che cazzo mi fa cambiare della patria? Ciao vecchiaggio Allora siccome sono buono Metti il 60% a me Faccio così No no Metti più a me Come faccio a mettere pronto? E' pronta? Come faccio? Devi fare basta Ma non so come faccio Premi i bottoni a casa Tranne il cerchio Ok No perché ho premuto questo Non me lo fa fare Allora Sto premendo tutti i tasti Bli più a casa Nel mio controllo è re acciso Cioè fatemi capire Ma lo sai una volta Sono arrivato Solo mentale Tre tacche Cosa? Sono arrivato Solo mentale Tre tacche Pronto Fatto Alleluia Quanto vi hai messo Nella tua vita? Boh No Ah no Sì 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 No Sì Aspetta Devo mettere No questo Dai metti pronto a giocare E' una giocare assurda Siamo dei tossici Siamo di più dei tossici Con lo smoking Oh perché se in prima persona Ah no Io vado con la mia Vado con la mia Oh Guarda cosa faccio Guarda cosa faccio Veicoli Guarda 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 Lo vedi? Cosa lo vedi? Lo sportello aperto Che ho deciso io di aprirlo Ah lo so Come ho fatto? Secondo te? Non lo so Lo sai Dimmelo dai Questo veicoli Sportelli veicolo E seti Tutto Ma devi premere Touchpad Eh sì Tenendo premuto Touchpad Ok Veicoli Svuota Veicolo personale Accesso tutti Eh Però adesso Ti iniziano a volare Le robe Oh vieni qua Vieni Vieni Ah ma è greviato Io sto guidando malissimo Lo sai Stavo quasi per esplodere Contro il treno Lo sai Oh mio dio Cosa succede se esplodevi? Perdevi la vita Giustamente No? Sì Ovviamente E io stavo per esplodere Contro una macchina Un tizio Un tizio mi ha detto I love you car Cioè Io amo la tua macchina Forse dal colore È un po' opaco Il mio colore Lo sai? Boh Molto Opaco vuol dire I love you car Amo la tua macchina È certo È bellissima La mia macchina No? Nel senso che Cioè Avvito Ma io l'ho mandata Tutti i miei cento amici E passa Ma sai Al mio amico L'ho messo Tipo Lo sai Con le macchine Con le macchine Degli anni 80 E un tizio mi ha detto I love you car Mi sembra una merda Quella car Quella car Era tutto rotto E poi Sai quelli Le macchine Degli anni 80 Quelle Proprio quelle È Quello ha detto I love you car Che muovi A me io lo direi Mi vergognerei Ma che schifo di macchina Poi A te piace A te piace Quella degli anni 80 A me no No Farino Guido io Guido io 130 Ti sei fottuto da solo Io l'ho L'assicurazione No Vabbè C'ho l'icco C'ho Vai Sali 240 Solo 700 Mila Ma io Ogni cosa che faccio Me ne spendo I soldi Alex Se andavi più veloce Morivo Una vita No Vevo neanche un po' di vita Se sbattevo Ancora più male Morivo Voltai Eh sì E anche bene Questa qua è la kuruma Giusto La kuruma blindata Perché la kuruma non blindata E la kuruma blindata Ma Marlo qui c'è la rosa Eh no c'è la viola No rosa Vabbè se ne taglio quelli Velocissimo Olè Devo fare Alleluia Primo circuito fatto Per favore Per favore Ma a che serve sto circuito Che hai fatto A creare le porte Tipo un hack door La di Bush Dock 2 Ah Capito Porca Non bestemmiare Non bestemmiare Ti blocco per sempre Io ti posavo porco cane È una bestemmia Porco cane Sì No quando mai Porco cane Ok ti blocco C'è la moto volante La moto volante No scherzo Ma perché è una bestemmia Non è un vero Sì Sì Non lo dire più Ok Ok Ah Il secondo circuito Ma a che serve il primo Il secondo circuito Non capisco Ha rotto le balle Sto qua Ha rotto le balle di Fieno Quelle di Minecraft Quelle di Minecraft forse Sì Anche però le balle di Fieno di GTA Ecco 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 E vabbè Ora sto il terzo Il terzo Ma che cos'è il suo circuito Che cos'è il suo circuito Fammi capire Praticamente è una lineetta Che se si va a schiantare Esplode E tu lo devi fare tutto a capo Lo sai il circuito Tutta quella roba Eh lo so Sì Sì Ma che cos'è Dove devo andare Non capisco Sul parcheggio Nooo Mi sono distretto Perché un tizio Lo sta spammando Non ci vedo Ah Questo spam di oggi Nooo Ma devo entrare Ah Queste Ah Ho capito Non fare niente Per favore Ma cosa Ti è appaccato il gioco Come ho fatto All'altra parte All'altra parte Non bella Alex Sì E non bella Sai cosa vuol dire? Ehm No Ehi là Ah Hai fatto le cam Hai creato le cam Non è che Sto creando Cavù Non è il cavù Come si dice Dove stanno i soldi Ma Per pochissimo Vabbè Comunque Cosa Per pochissimo Lo so Alleluia Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta A che l'hai fatta A metterà con le porte Eh ma Eh ma Ero il cavù quello Cioè Ah Ecco La maschera Ora lo so Dobbiamo fare Non morire Non morire Non ti peggio Però Mi puoi aiutare Neutralizza le telecamere Distruggi le telecamere Come faccio Spararle Quali sono queste telecamere Non capisco quali sono Sto trapanando Sto trapanando Se mi vuoi Se mi vuoi Non devi vedere Tu devi controllare lo stadio Io ho lo stadio Sto trapanando Ma dove stanno Sto trapanando E' semplice Questa Di trapanare Di trapanare Ma due Il terzo Dov'è? Ok Guarda Chi sto controllando Intimidazioni Controlli Cento Controlli Testimoni Ok Io li sto controllando Da mezz'ora Vero? Oh Non è tanto facile Sta roba Capanare Ah Sì Devi fare La massima Attenzione Allora Vediamo F**k you b**ch Scappiamo Scappa 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 Muoviti Nuove Muove 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 Tella Muove Muove situação D damole Muove Muove Scappa male in questo modo non cadere mai nell'acqua se cadiamo e l'acqua cosa succede che bella cosa vale siamo quasi arrivati cosa dobbiamo fare è quello della fuga lei mi ha detto mi do sotto il cargo bob qual è il suo cargo bob dove è il suo cargo ecco non lo vedi è il cielo però eh eccolo stai sotto il cargo bob cavolo che calamita fatta fatta sì sì abbiamo fatto il colpo alla fleca sì oh mio dio quanti soldi no ma alla fine devi vedere cosa succede perché è assurdo ma perché tu l'hai fatta una volta sì l'ho fatto 9 volte l'ho fatto 9 volte ah ecco perché tu sei milionario allora quanti soldi ti dà eh no non è che ti dà altri soldi ti dà 100 mila e 640 mazzo mila ovviamente mila no c'è eh 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 115.000 bottino finale 115.000 bottino finale e poi più 575.000 di soldi poi è completo in meno di 5.000 no eh eh ad anni al vivo il 6% l'abbiamo fatto nessun morto l'abbiamo fatto spesa in leaf non completata bonus prima volta oh mio dio quanti soldi eh guadagno totale 4.000 punti 2.988 conformed ah perché voglio vedere questa scena troppo bella però sicuro il motivo è un po' caricarsi eh uffa dai non ti preoccupare non lo schifare perchè se no è un infamore è la cosa più bella che abbiamo fatto non le schifo bravo adesso non si può neanche schifare è bene aspetta vedi il bianco? si vedi qualche scritta? no ok non sono daltonico non sono daltonico sappilo uffa hai visto? cosa? quella cosa? no vedo ancora lo schermo bianco eh sul serio? adesso si grazie? si bicchiere di vino spacco bottiglia spacco famiglia dove stai? eh schermo nero ok stiamo caricando uffa facciamo un attimo così va ma che mi sono? fa vedere se non mi vengono aspettare altri 4 minuti perchè non mi ha dato i soldi? no è un bug non ti preoccupare ma poi te li dovrebbero andare ti ha dato? eh si ora si eh si ora si un momento passiamo tutto alla voce a me non mi ha dato ancora perchè? ma neanche me nooo ti è baggrato ma te li ha messi direttamente in banca è vero è vero te l'ha messo solamente l'ha messo in banca hai ragione eh che stupidata che ha fatto adesso cosa altro facciamo? però potrei mettere in contanti però potrei mettere in contanti scusa però eh allora un momento stavo prendendo un impatto perchè? pensavi che non ti avevano dato i soldi? eh davvero? aspetta dopo facciamo quella cosa di 35.000 dollari eh sì quale? ah la scia mortale? no no è l'altra missione che ci ho consigliato io però sono otto round eh otto round ah si io conto di te chi vincerà sta partita? lo scopriremo proprio ora allora vediamo allora dov'è il tuo? no what the fuck what the fuck dov'è quel tizio? ok il tuo senso di te allora ciao 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 dicono che nelle strade sarebbe un mistero non lo trovo aspetta oh ma allora cosa facciamo? facciamo una mia attività no no dai una mia attività cosa sarebbe? una gara no le gare no una scia mortale scia mortale no una cosa che ti dà 20.000 un last di miss ending una cattura ma quella cosa che faccio io ti dà 25.000 è qualcosa ok ci so allora ho queste 40 boh boh però non so l'altra volta ero fatte con i nemici mi sono fatto 120.000 dollari però muoviti perché fra un po' concludo la live fra un po' concludo la live concludi la live ora vabbè ma quanti minuti? 59 aspetta un altro minuto e poi basta oh mio dio oh mio dio che ho fatto hai annullato la live? no ok ora sono l'ora? fra 20 secondi 15 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 ciao ciao